Il PM di Urbino Irene Lillio ha contestato ai due indagati la premeditazione, due indagati appunto per l'omicidio di Ismaele Lulli, 17enne ucciso a Sant'Angelo Invado, per cui sono finiti in carcere i due albanesi Igli Meta, considerato l'autore materiale Reo Confesso e il presunto complice Mario Mema. Lo ha deciso dopo aver ascoltato a lungo Ambera la ragazza macedone fidanzata di Meta, Lillio ha chiesto di poterla ascoltare in incidente probatorio fissato per giovedì prossimo insieme agli indagati per confrontare le loro versioni. Peraltro la ragazza partirà a fine mese per la Macedonia con la famiglia, viaggio già programmato per trascorrere le vacanze nel paese d'origine e quindi era necessario ascoltarla prima. E sarebbe stata una relazione occasionale di Ambera con Ismaele alcuni mesi fa, il motivo scatenante della gelosia di Meta che del tradimento ne era venuto a sapere solo pochi giorni prima del delitto. Il ventenne negli ultimi tempi aveva mandato con continuità alla sua fidanzata messaggi con minacce di morte al ragazzo colpevole ai suoi occhi di aver avuto un fugace rapporto con la sua donna. Ed ora cambiamo argomento perché alcuni consiglieri di opposizione vanno all'attacco dopo le affermazioni di Carla Luzzi di Sinistra Unita che ha dichiarato di non amare né il Carnevale né la Fano dei Cesari. Finalmente la maggioranza di questa giunta seria ha calato la maschera con le parole della consigliera Luzzi che si è espressa contro il Carnevale e la Fano dei Cesari. È il pensiero dei consiglieri di opposizione Santorelli, Garbattini, Aguzzi, Del Vecchio e Cucuzza, secondo i quali sindaco e ossessori stanno camuffando una finta amicizia collente carnevalesca. La consigliera Luzzi che si dice praticamente disgustata dal Carnevale e dalla Fano dei Cesari, probabilmente non è neppure mai stata la Fano dei Cesari perché dice cose inesatte, parla di 15 giorni di arresti domiciliari per chi abita nella zona quando si esaurisce tutto in due giorni, dimostra anche di non poterne apprezzare gli aspetti culturali della manifestazione, come era cresciuta negli ultimi anni con conferenze, con scuole per i bambini, quindi parte didattica, con accampamenti alla rocca amnattestiana o le mura. Ma è proprio vero che questa maggioranza non si sente proprio sua né la Fano dei Cesari né il Carnevale. Da una parte il sindaco e la giunta strizzano l'occhio alla carnevalesca, cercano di ammiccarsi le simpatie di chi lavora tutto l'anno al Carnevale, dall'altra c'è un progetto per invece togliere tutte le manifestazioni della tradizione popolare fanese, come è successo in quest'estate, che è stata la più calda degli ultimi cent'anni da un punto di vista meteorologico, ma la più fredda, triste e buia per la città di Fano per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni. Santorelli poi ha definito ridicolo l'incontro tra il segretario dei Giovani di Serie, Edoardo Carboni, e il sindaco stesso per il tema della musica nei locali. Noi non chiederemo alcun incontro al primo cittadino, ha dichiarato il consigliere, ma invitiamo gli esercenti che lo hanno esposto a rimuovere il cartello vietato ballare, affisso dopo la richiesta dei vigili inviati dentro i locali da questa amministrazione. Non è contemplato da nessuna norma del testo unico per leggi di pubblica sicurezza, nei locali di intrattenimento musicale, quindi non di pubblico spettacolo, nessuno può vietare, se vuole un giovane o un qualsiasi fruitore o avventore, di muoversi a ritmo di musica. Quindi veramente siamo ad una dittatura buia per quanto riguarda le feste, l'animazione, la musica e il divertimento di questa città. E alle dichiarazioni di Santorelli ha replicato Carla Luzzi. Il mio comunicato è stato frainteso da molti, ha detto la consigliera fanese Carla Luzzi, che ha voluto replicare alle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni. Non intendevo dire che non volevo il carnevale o altre manifestazioni importanti, ma semplicemente che servono idee nuove che possano valorizzare soprattutto il carnevale invernale. Io non sono contraria ai momenti di festa, ha precisato, ma c'è modo e modo di organizzarli. Quello che scrive stamattina Santorelli, Cucuzza, Guzzi, non mi trova con corde perché è un po' un interpretare le mie parole. Io non intendevo assolutamente dire queste cose. Credo nel carnevale perché il carnevale è parte di Fano, ma per rinascere e per avere quello splendore che aveva anni fa ha bisogno in qualche modo di essere ripensato e non può essere ripensato nell'estate, ma può essere ripensato nel suo periodo che è l'inverno, che è il periodo del carnevale. Questo ha proseguito e soltanto un mio pensiero su come poter recuperare lo spirito del carnevale. Quando facevo riferimento a Dario Fo, facevo riferimento a un periodo, voglio dire, pieno di luce del carnevale, non perché rivolgo Dario Fo in questo carnevale, ma perché voglio una figura che sia comunque autorevole, che in qualche modo possa dare anche un nuovo lustro. Sulla Fano dei Cesari invece Luzzi ha confessato di non averla mai amata, viste le criticità che secondo lei nascono durante la manifestazione, dal grande consumo di alcol, al tanto denaro speso, all'inquinamento acustico ed ambientale, ma anche alla corsa delle biche che comportava ricoprire tutto l'annello del pincio con grandi quantitativi di sabbia. Chi vive lì vicino, aveva scritto, si sentiva agli arresti domiciliari per circa 15 giorni, in mezzo ad una grande confusione con le vie chiuse, la raccolta dei rifiuti fatta con grande difficoltà e molto spesso tutte le attività di preparazione venivano svolte quando ancora non si era fatta l'alba e quindi Chiasso urla polvere. Mi sembra molto strumentale questa polemica rispetto alla Fano dei Cesari, perché io proprio nel comunicato dico personalmente, ribadisco personalmente, perché la mia idea di festa, la mia idea di eventi non si rifà alla Fano dei Cesari. Poi nel comunicato non scrivevo neanche un'altra cosa, che ho molto a cuore invece, che non ho scritto proprio per non creare ulteriori dimensioni di polemica, che è quella come veniva vista la dimensione della donna nella Fano dei Cesari. Allora c'era questa esaltazione della virilità, della mascolinità, e le donne erano solo delle gregarie, se non delle vestali, se non delle portatrici di qualcosa, invece c'erano tutti questi maschi che apparivano in tutta la loro forza. Allora devo dire che questo è un altro aspetto che secondo me va curato in una forma diversa. Questo era il mio pensiero, non voleva creare nessun disagio, nessuna polemica inutile e strumentale assolutamente. Intanto la Carnevalesca ha organizzato per venerdì prossimo una festa per celebrare il superamento dei mille soci. Presidente Luciano Cecchini assicura di essere già al lavoro per il Carnevale estivo 2016. Servizio di Lino Balestra. Sono 1070 ad oggi i soci dell'ente carnevalesca e molto probabilmente il numero è destinato a crescere, visto che il tesseramento per il 2015 si chiude ufficialmente venerdì 31 luglio, proprio in occasione della festa organizzata per celebrare questo risultato storico e altrettanto importante, della gestione Cecchini, che ha orgogliosamente detto in conferenza stampa che ci sono voluti ben 5 anni per arrivare fin qui con non pochi sacrifici. Tutto pronto quindi per questa serata nella piazza 20 Settembre di Fano, che è il luogo simbolo del Carnevale perché lì nasce e lì si chiude con il ruogo del pupo. Messa a disposizione dal comune che quest'anno Obtorto Collo ha dovuto rinunciare alla versione estiva del Carnevale, ma che ha assicurato che l'anno venturo, con buona pace di tutti, si farà sicuramente. È un risultato che segna una svolta anche nel modo di promuovere l'amministrazione, di radicarla nella città, un lavoro che hanno iniziato da diversi mesi, una grafica rinnovata, anche lo stesso questionario dato ai turisti e ai cittadini che hanno frequentato l'ultima edizione ha dato risposte per capire bene in che direzione puntare, quali migliori fare, quindi io direi che è una bella iniziativa. Bella iniziativa anche il fatto di festeggiarlo perché è un risultato o una ripartenza significativa, come dice Cecchini. La data del venerdì, ci ha tenuto a sottolineare Cecchini, è stata una scelta obbligata dalla folto carne di serate dell'orchestra italiana Bagutti, che animerà la serata e che era disponibile solo per il venerdì 28. Questo a scaso di equivoci sulla concomitanza di Fano Jets all'anfiteatro Rastat. Il mio sogno era appunto di arrivare a mille soci, li abbiamo superati e non poteva passare così inosservata questa notizia perché questa condivisione, oltre che farla con i mille passasocci, la faremo con tutta la città di Fano per appunto festeggiare l'ente carnevalesca che da 160 anni è l'ente che organizza il carnevale, ma soprattutto per far festa al nostro carnevale di Fano con tutti i fanesi. Ad accogliere tutti ci sarà il tanto amato e bellissimo carro El Bougiardon, che col suo Pinocchio ciclista farà capire bene a tutti di che festa si tratta. Quindi, se volete una bevuta gratis e la maglietta dell'evento, tesser la mano e tutti in piazza. Il presidente dell'ente carnevalesca Cecchini e il vice sindaco Stefano Marcheggiani hanno voluto dire la loro anche su quanto dichiarato da Carla Luzzi. Innanzitutto è bene che si parli, vuol dire che il carnevale è ancora interessante e interessa a tutti. E che dire, io lascio la piena libertà di decidere e di parlare. Carla Luzzi dice non mi piace la fana dei Ceseri, tantomeno il carnevale estivo, però dice ama il carnevale invernale. Vabbè, vorrà dire che io l'aspetto alle sfilate del carnevale di quest'inverno. Quindi ce n'è veramente per tutti. Il carnevale deve essere ed è una manifestazione per tutti i gusti. Beh, noi non condividiamo, pur rispettando la legittima opinione della consigliera Luzzi, ma noi condividiamo l'impostazione. Noi vogliamo portare avanti tutte le iniziative, l'avevamo detto, e quando non ci siamo riusciti anche per la stretta finanziaria, l'abbiamo parlato sempre a carte scoperte, abbiamo salvato tutte le manifestazioni storiche di Fano, in un momento molto duro dove io sono stato tagliato per far fronte ai servizi sociali, alle esigenze più forti. Non condivido l'impostazione, perché non c'è una cultura di serie A, di serie B, sono manifestazioni tutte culturali. In ogni maggioranza, l'abbiamo visto anche in passato con maggioranze differenti, di differenti impostazioni, ci sono le opinioni personali. Ora, un conto è le opinioni personali, un conto è l'opinione di un'amministrazione. E io qui tranquillizzo tutti, la nostra amministrazione la pensa in un modo meno radicale e molto più comprensivo di tutte le istanze della città. Noi mi abbiamo messo a disposizione, lo si vede nella città, un programma culturale e turistico a 360 gradi. Ma sentiamo che cosa ne pensano i turisti degli eventi e come trascorrono le loro vacanze nella città della fortuna. E' la prima volta che siete qui a Fanno? No, no, veniamo qui da almeno tre anni più o meno. Allora, come trovate la città? Beh, è molto bella il fatto che si possa camminare a piedi, che non si ha bisogno di prendere la macchina. Poi è una città molto tranquilla, per noi che veniamo da una città grande come Roma. Ah, ecco, quindi è abbastanza caotica. Assolutamente, invece qui è molto più tranquillo, molto più vivibile come posto. La sera, dopo il mare, dopo la cena, come passate le vostre ore così? Ma di solito una passeggiata in centro, così per vedere le vetrine in negozio, un gelato. Per questo si vive molto bene, nel senso non c'è bisogno di allontanarsi tanto per uscire, per andare da qualche parte. Gli eventi, le manifestazioni che ci sono a Fanno, le conoscete, le frequentate? Sì, diciamo, siamo venuti in concomitanza della notte rosa, siamo stati bene, devo dire, e qualche altro anno abbiamo beccato la notte bianca, così, insomma, la notte dei saldi, ecco. Adesso c'è un po' di musica, c'è il zez, ci sono altre cose, quindi frequenterete? Eh, stiamo ripartendo, diciamo, per oggi veramente, quindi all'anno prossimo magari. Buon rientro. Grazie. Come ha trovato la città? Eh, bella, bella. La prima volta? Eh, sì, 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 la prima volta. Come passate le serate una volta finito il mare? Guardate, le serate, vedete qua, sono impegnate a far dormire il bambino. E quindi, che cosa solitamente ricercate quando ne potete in una città, in una località turistica, quando ci andate? Beh, il mare, il mare pulito. E qua l'unica cosa che ci hanno lasciati un po' così è stato il discorso dell'apertura, quando piove, che aprono un pozzo. E credo che questo qua sia una roba da risolvere, insomma, di portare gli scarichi più lontano possibile. Le manifestazioni cosa prediligete? Se ne andate a qualcuno, insomma, a musica, a concerti? Visto lì che c'era... Beh, c'era il jazz molto bello, abbiamo visto sul lungomare. Abbiamo visto che c'è abbastanza attività, insomma, sì, sì, sì. No, mi sembra che sia abbastanza viva la situazione. Grazie. Da dove? Da Milano. E mentre a Fano continuano le polemiche sugli eventi, a Pesaro fermano i preparativi per il palio dei braceri, che è nato dal nulla, anno dopo anno sta riscuotendo un grande successo. Nella settimana del conto alla rovescia, il sindaco Matteo Ricci conferma l'importanza dell'iniziativa. È l'evento simbolo, ha detto, quello che valorizza più di tutti l'orgoglio di appartenenza alla città. La Kermess si svolgerà dal 30 luglio a Rocca Costanza con finale domenica 2 agosto. E nell'edizione del ritorno della contrada Centromare, contesa tra 14 compagini, Ricci ha parlato in conferenza stampa di una strategia generale. Non c'è mai stata un'estate così bella come quella che stiamo vivendo, ha dichiarato orgoglioso. Qualche anno fa Pesaro era molto più morta, ma il palio, ha concluso, dimostra che è una città più viva, dove i giovani hanno più opportunità di aggregazione e anche migliore. E ancora adesso cronaca, una breve di cronaca. Un incendio divampato oggi pomeriggio a Calcinelli di Saltara, ridosso della strada statale Flaminia. Ad andare a fuoco, forse a causa di un mozzicone di sigaretta, sono state delle sterpaglie sul ciglio della carreggiata all'altezza del negozio Acqua e Sapone. Sul posto i vigili del fuoco di Fano, che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme. Demenza e comportamenti speciali sono stati due temi al centro di altrettanti incontri condotti da Letizia Espanoli, una formatrice con esperienza trentennale nell'area sociosanitaria. La più importante decisione che mai prenderete sarà decidere se vivere in un universo amico oppure in un universo nemico. È una citazione di Albert Einstein che racchiude appieno il pensiero di Letizia Espanoli, formatrice con esperienza trentennale di lavoro nell'area sociosanitaria, che oggi ha condotto due workshop al centro Alzheimer Margherita. Il primo è in mattinata, dove ha approfondito il tema della persona con demenza e la comunicazione con essa, mentre nel secondo, tenutosi nel pomeriggio, di comportamenti speciali in persone speciali. Gli incontri patrocinati dal comune di Fano sono stati organizzati da Deborah De Angelis, assistente sociale e coordinatrice della Casa per Anziani Famiglia Nova. Diciamo che l'idea forte che sta dietro a questi workshop è proprio questo slogan De mente, no, sente mente. Troppo spesso, quando noi parliamo della malattia e della demenza o dell'Alzheimer, pensiamo a tutto quello che queste persone non sono più. Quindi dipingiamo la malattia di Alzheimer come il lungo addio, questa drammaticità che c'è dietro, questa idea che loro perdono tutto. La cosa più preziosa che contraddistingue l'essere umano, che è proprio la sua capacità di sentire, dentro a queste persone rimane inalterata. Letizia è poi intervenuta sui disturbi del comportamento, o meglio, sui comportamenti speciali, come lei ama definirli. Quando dico disturbo del comportamento mi farebbe dire, ma disturba chi? Allora, forse, questi comportamenti speciali potrebbero essere una forma di linguaggio? Potrebbero essere il modo che queste persone hanno di entrare in relazione con noi e da qui capire cosa sono e come interagire con questi disturbi. Comportamenti speciali. E le dimissioni di Renato Claudio Minardi, da vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, avevano fatto decadere anche l'altro vice, Sandro Zaffiri, della Lega, finito nella bufera per delle dichiarazioni sul prefetto di Roma, Gabrielli. Bene, questa mattina Minardi è stato rieletto con 18 voti e con lui Marza Amalai, già della Lega, con 7 voti, quindi tutti quelli del centro-destra. Quest'anno, in occasione del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'An Mifano ha inaugurato domenica scorsa una mostra alla darsena borghese che documenta l'importante ruolo svolto dalla Marina Militare Italiana nel primo conflitto mondiale, operando soprattutto nel Mar Adriatico. Sarà possibile visitare la mostra fino al prossimo 15 settembre, tutti i sabati e le domeniche, dalla 18 alle ore 23. Il 2, il 9, il 23 e il 30 agosto, poi sempre alla darsena alle ore 18, avranno luogo quattro conferenze a tema. Il 5 agosto, invece, a cento anni dalla morte del sottonocchiere 22enne Giovanni Franchini, verrà proiettato alle ore 18 un film sulla sua vita. Franchini morì proprio il 5 agosto 1915, quando il sommergibile Nereide fu colpito e affondato dal lancio di siluro austriaco a Zadlo. Il sottomarino venne poi recuperato 57 anni dopo e quindi nel 1972. In via Cavour domani, mercoledì, si svolgerà la festa dell'Oca con giochi per bambini e musica swing dagli anni 20 fino agli anni 50. Domani sera organizzeremo la festa dell'Oca. Ci saranno tre caratteristiche della festa. Sarà la musica swing dal vivo anni 20 e 50, che sarà la band e c'è altro un trio che suoneranno. Poi ci sarà tutta l'animazione per i bambini, i bambini più piccolini, i bambini più grandi, ma soprattutto riproporremo tutti quei giochi tradizionali di una volta, come il salto alla corda, il gioco dell'Oca. Così dai, si divertiranno un po' con i giochi tradizionali di una volta che uno non è più abituato a giocare. E in più noi proporremo come piatti l'Oca, che è una tradizione contadina che si faceva proprio in questo periodo, con l'Oca in porchetta, con le patate al rosso, tagliatelle o gnocchi all'Oca col sugo d'Oca. Domani vorremmo presentare questo vino, il Roche, che è il vino che abbiamo creato in collaborazione con la cantina Lucarelli di Cartoceto, come funzionava proprio nelle vecchie osterie un tempo. Cioè, ossia l'oste e l'ostessa andavano nelle cantine, sceglievano il vitigno, l'uva, la lavorazione e il vino, per poi dopo riproporlo all'interno delle proprie osterie, del proprio esercizio. Noi abbiamo fatto proprio lo stesso identico lavoro e domani sera è un'occasione della festa dell'Oca, vorremmo far assaggiare a tutti quanti i nostri clienti questo vino. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.